Sono tornati come avevano fatto intendere sui social network. In 300 si sono riversati in centro storico con una scena fotocopia, quella già vista lo scorso sabato, ma questa volta le forze dell'ordine erano schierate. A decine li hanno incontrati tra la stazione ferroviaria e via Roma. Il loro intervento tempestivo è riuscito a bloccare una rissa che stava scoppiando proprio lì in via Roma tra due ragazze. Altri due giovanissimi poco prima erano venuti alle mani in piazza Duomo. Lo racconta un testimone. Ho visto i ragazzi che hanno iniziato a urlarsi dietro e hanno iniziato a gruppetti a raggiungersi. Dopo è intervenuta la polizia e ha iniziato a disperderli per le vie della città, tutti minorenni. Cosa dicevano? Niente di particolare, si urlavano dietro tanto per attirare attenzione e fare scena. La rissa sventata intorno alle 16.30. I gruppi si muovevano a stormi, si davano appuntamento in vari punti della città, tenendosi però sempre in contatto tramite il cellulare, sempre dispersi dalle forze dell'ordine. Un dispiegamento di forze tra vigili, agenti di polizia e carabinieri poderoso, ma anche una grande campagna di prevenzione da parte della polizia locale. I ragazzi non si può dire che non fossero stati avvisati. Alcuni sono stati identificati dai vigili, oggi decine nei giorni scorsi, e sono già tre i minori che dovranno presentarsi in comando per gli episodi violenti di sabato scorso, che oggi dunque non si sono verificati, stanati sul nascere grazie ai controlli. Controlli che in un caso sono addirittura stati contestati da un genitore che ha chiamato in comando per avere spiegazioni sul perché la figlia fosse stata ripresa e identificata, interrompendo così di fatto un pubblico servizio.